Secondo me è troppo altalenante, però per fortuna siamo riusciti a vincere grazie anche a Nils. L'ultima intervista ho detto grazie a Roby che ci aveva fatto due ace, questa volta grazie a Nils. Comunque peccato perché secondo me è proprio un errore di come siamo entrati in campo, magari è atteggiamento un po' spento, quindi forse dobbiamo lavorare un po' su quello, perché quando giochiamo forte giochiamo bene, quindi andiamo a buon ritmo. Per cui niente, domenica prossima siamo di nuovo in casa fortunatamente, vediamo di fare un'altra bella partita e grazie ancora a Nils.